E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo bellissimo video. Oggi raga, praticamente ieri una mia fan mi ha chiesto sui commenti, nel video di ieri una mia fan mi ha chiesto puoi fare la morning routine sull'Ivetopia? E io ho risposto certo lo farò. E quindi oggi ho deciso di fare la morning routine di l'Ivetopia. Allora ragazzi, morning routine vuol dire soltanto di mattina fino alle 12, quindi noi faremo un bel pezzettino di morning routine. Ma quando sarà notte io ovviamente non la potrò fare questa morning routine. Però siccome mi ha detto di fare la morning routine, in quel senso tipo di fare tutto il giorno la morning routine, allora io la farò tutto il giorno. Noi incomincieremo prendendo la nostra macchina, la macchinina bella bellina, molto grande, con il tetto mi sa che è anche apribile. e andremo a, ovviamente cosa fare, bravi andare a prendere una casa. Ma mi sa che c'è sempre un ma, quindi questo ma si intende che la casa numero uno è lontana, quindi ci andiamo direttamente a teletrasportare. Allora E ragazzi, dobbiamo prendere una casa, in questo caso quale casa potremmo prendere? Io vorrei questa casa qua tutta gialla, la possiamo prendere a casa uno, due, tre, quattro, no? Quindi mi prenderò la casa tre. Tanto la casa tre lo stessa sarà bella. E sono sola. Wow, bellissimo, bellissimo. Avere un terreno tutto verde. Non c'è molta connessione, per questo c'è il terreno verde. Aspettate ragazzi, vado a mettere la connessione. Aspettate, si stanno caricando le cose. Ecco qui. Chiudiamo ora noi e andiamo a fare la nostra morning routine. Allora, di solito alle nove cosa si fa? Si va a fare colazione, ma noi non la faremo, una semplice colazione. Noi andremo a fare una colazione. Bravi, al ristorante. Quindi, ragazzi, andremo al ristorante. Perché è l'unico posto che potrei prendere. Vedremo qui invece se c'è qualche posto dove potrei fare colazione. Allora, in questo caso potrei vedere qui negozzi di cremele, miniatura, giochi, banca, caffè. Caffè, sì, dai. Avviamo la navigazione. E vediamo dov'è. Oh, raga, no, non c'è la navigazione. Qui, 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 proprio qui, 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 qui. Andiamo a prenderci un bellissimo caffè. Allora, il resto è la navigazione. E ora dobbiamo fare avviare la navigazione per il caffè. Il caffè, 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 caffè. Proviamo ad andare da questo lato. Vero, 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 vero. Di là noi abbiamo la discesa che forse porterà al ristorante dove c'è il caffè. Ah, sì, penso, non lo so. Non lo so, non lo so. Quindi già sono le 11, dai, è quasi ora di pranzo perché sto andando a fare ora colazione. Magari mi vado a fare un bel giretto, ma non si sa dove, però tipo un posto di precisione. Andiamoci a fare un giretto nel centro commerciale. Nel massimo che si fanno l'una e mezza e poi vado al ristorante. Perché tanto, ragazzi, io ho ordinato ieri il mangiare che mi doveva arrivare, che mi dovevano preparare entro le nove. Però, ragazzi, non sono arrivati in tempo a fare tutto. Quindi hanno chiuso poi il ristorante e hanno rimandato per oggi. Io li ho chiamati di nuovo prima che facessi il video e io avevo detto fatemelo oggi verso l'una e mezza a due, io sarò lì. E mi hanno detto va bene. E quindi, almeno oggi, ho trovato qui, eccolo, il minimarket che praticamente è anche da caffè. Perché qua accanto ci dobbiamo sempre ricordare che è al municipio accanto. Ah, che bello! Ma non potrò fare colazione pure oggi. Quindi ce ne andiamo al centro commerciale a farmi un giretto. Magari vado, boh, non so, al centro commerciale, va a darsi. E non c'è nemmeno tempo che devo andare al ristorante, quindi pomeriggio verrò al centro commerciale. Poi, appena finirò di farmi un giretto, tornerò a casa, mi metto il costume e vado a mare, sempre se c'è tempo. Ora, andiamo verso il ristorante nuovo, quello che avevano aperto da poco. E, tipo, boh, il 25 giugno, non so quando è stato l'aggiornamento del ristorante, 25 giugno, una cosa del genere. E andremo qua al ristorante. Perché sapete, ragazzi, io sono amante di ristorante. Di ristoranti amo mangiare fuori, ma anche dentro casa amo mangiare non solo nei ristoranti. Qui abbiamo il nuovo ristorante da poco. Ed eccolo qui, il ristorante. Voilà! Chiudiamo la macchina. Sempre sicure. Oh, mamma mia che rumoraccio che ha fatto. Ora, andremo qui dietro e vediamo cosa nascondono questi malefici. Uh, qui dove si cucina e lì ci sono tutti i piatti, vero? Ecco, mi sono arrivata. Non farò vedere quello. Sì, sì, sono io che avevo ordinato gli spaghetti, cioè un po' di insalata, queste cose. Puoi prendere un altro ordine, tranquillo. Eh, ho preso, sì, sono io che ho preso la zuppa di pomodoro. Uh, buona. Buona. Ora prenderò un antipasto, che sarà un po' del pesce e delle patatine. Dai, facciamo delle patate alla griglia. Mmm, che bello questo aggeggio. Poi ovviamente mi prenderò anche qualche bevanda da bere. Cioè, in questo caso prenderò del caffè. E infine, mi devo prendere anche un gelato al lampone. Qui c'è il mio delizioso caffè. E poi c'è il mio delizioso gelato al lampone. Devo dire che ho mangiato benissimo. Grazie, robot. Ora, una volta finito di mangiare, ho già pagato tutto, quindi me ne vado. Ciao, grazie. Ora me ne torno a casa. Anzi, vado al centro commerciale, come avevamo detto prima. Piano che sennò qui succederà tanto casino. E ce l'andiamo via al centro commerciale, anche se sto passando dalla strada dove non dovrei passarci, perché questo qua sarebbe il marciapiede e sarebbe illegale passarci. Però io ci sono passata perché voglio fare uno scorciatoio per arrivare presto al centro commerciale. Eccolo. Eccoti, centro commerciale. Sono qui tutta per te. Ce la farò. Ragazzi, questa è stata la mia morning routine. Non potevo fare il di più perché sono passata i dieci minuti. E niente, ditemi altre cose da fare nei commenti. Ciao!